11.33.0, proveniente da la specchia centrale e direzione a Genova Brigno, l'interiore 23.35, è in arrivo al binario 1. Attenzione all'ostanarsi dalla linea gialla, per me in tutte le sezioni, eccetto il patriconto, capi, pulimenti, montezo. In original train 11.33.0, from la specchia centrale a Genova Brigno, l'interiore 24.35, è in arrivo al binario 1. Please stand behind the other line, this train will call at all stations, set in privato ruolo, canti, pulimenti, sport intro.